Ri buongiorno a tutti belli e brutti, un buongiorno di nuovo a tutti che sarà buonasera quando vedrete il video Quando parla Moji fa sempre notizia più lui che qualche altro E pensate che Moji era uno che difendeva anche Allegri Difendeva anche Allegri, perché sentivo anche lì Luca Totti, l'amico del Tridente Seguite gli amici del Tridente perché è giusto anche, mi danno una mano col canale Vediamo oggi se riesco a andare, ma questo video lo vedrete dopo Comunque parlava anche Luca Totti di come è andato giù pesante Ma era già stato ripreso anche da Del Piero Che questo qua non sa mettere i giocatori in campo Io tante volte quando vedo che difende Allegri Non è che vi dico niente, ognuno fa quello che vuole nella sua vita Io lo critico, ma non è che critico più di tanto chi difende Allegri Perché ognuno ha la propria testa, la vede come vuole, il calcio Più che altro magari io credo che siano quelli che difendono Allegri Siano quelli che hanno visto il calcio negli ultimi 15-20 anni Non penso che tifosi che hanno una certa età come me Che hanno visto tante Juventus Questo qui non puoi difenderlo Non puoi difenderlo E c'è andato giù pesante anche Mocci Anche Mocci Ha detto che dopo il primo tempo con l'Inter Ha detto che se sarebbe stato lui ancora alla Juventus Sarebbe andato giù, avrebbe licenziato in tronco l'allenatore In tronco l'allenatore Per quello anche tante volte vi dico che non si può andare avanti così Non si può Cioè questo qua veramente l'ha buttata giù pesante Mocci Perché guardate che Mocci è sempre stato 4-4 con Allegri Anzi vi ripeto che anche lo difendeva Tipo si vede che ha sbottato anche lui Perché non puoi vedere una Juventus così Non puoi vedere una Juventus Poi tanti Certo sentivo anche lì l'enigmista Lì che parlava Eh cosa vuoi? Aprirti con loro che poi ne prendi 5 come il Milan E chi te l'ha detto? E chi te l'ha detto? Hai la riprova Magari se ti apri che gli attacchi li metti anche in difficoltà Perché se gli attacchi devono difendere anche loro Quindi non è che hai la certezza che aprirti contro l'Inter Vuol dire prenderne 5 come il Milan Il Milan per me è una squadra scassata Cioè il Milan a centrocampo è messo peggio di noi Ci sono voragini Almeno noi diciamo che nella schifo di di Coso Almeno abbiamo una maniera di difendere Diciamo così Dai Però porca di una miseria Cacchio Se diciamo oggi queste robe qua vuol dire che Che E poi su questo Vlaovic che Pare che non accetti questo Perché la Juventus 12 milioni non glieli dà A Vlaovic il pressumano Guardate ragazzi Questo qui ve lo assicuro Ve lo assicuro che la Juventus 12 milioni A Vlaovic non glieli dà Con la politica che adesso ha adottato Quindi anche su Anche su questa storia di chiesa Che vuole rinnovo E' sempre come Come vi dicevo nel video precedente Quando ti vuoi liberare di un calciatore Che magari ti sta sulle palle Un calciatore che lo vuoi cedere Sul giornale fai Venire fuori delle notizie Anche non vere Che il giocatore pretende più soldi Che non è Che non è Per metterlo in difficoltà Per farlo andare via Perché ti vuoi liberare di lui Questo è Come sul contratto di Allegri Secondo me si vogliono liberare di Allegri Riducendoli il contratto Da 9 a 4 milioni Quando ti vuoi liberare di una persona Cosa fai? Gli abbassi lo stipendo Come è fatto con Di Bala E io penso che questa qui E' una chiave molto 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 importante Perché stanno facendo la stessa cosa Con Chiesa e anche con Vlaovic Adesso è venuta fuori Stanno facendo la stessa Sta 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 piccola bomba Che la Juventus Stia appuntando Sul Sulla punta del Bologna Questo Zirke 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 Come cacchio si chiama Quindi non Cosa dite voi Cosa dite voi 12 milioni Li dareste a Dusan 12 milioni 12 milioni Sono tanti Ma 12 milioni Li prende un top Un top In 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 Premier Cioè 12 milioni Li prende un top player In Premier Cioè questi qui sono veramente stipendi da Premier Poi Non so ragazzi Comunque Veramente Poi ho visto il coso lì Di Alcaraz Quello lì Ragazzi è una bomba Quello lì Ho visto un paio di movimenti Lì in allenamento Un gol che ha fatto Un tiro da fuori Quello deve essere un grande crack Quello lì Quello l'ha intivata È la Juventus quello l'ha intivata quello lì veramente è un buonissimo calciatore io vedo già una Juve disegnata disegnata il prossimo anno con McKennie, Alcaraz Felipe Anderson poi c'è questo Koppmeier Koppmeier, Alcaraz McKennie mettici Fagioli Fagioli vedo una Juve tosta il prossimo anno vedremo veramente la vera Juve secondo me, quest'anno come detto è l'anno zero io lo sapevo, io a vedere una Juventus sono già a parte tanti che dicono il contrario io sono molto sorpreso perché vi ripeto che avevo messo prima l'Inter ovviamente secondo e terzo Milan e Napoli poi avevo messo la Roma come quarta e poi il resto Juventus tutte quelle là dopo il mercato di spoltimento che aveva fatto avevo già previsto un anno zero però diciamo che per il prossimo anno stanno lavorando pesante pesante e credo anche appunto prendendo questi giocatori qua io non vedo Allegri Allegri sulla panchina della Juventus con questi giocatori qua non lo vedo proprio e addirittura non vedo neanche Rabio io il prossimo anno della Juventus perché se va via Allegri va via anche Rabio perché Rabio secondo me è poca roba è poca roba poca roba poca roba come vedo sparire anche i miretti vedremo sparire vedremo sparire ancora qui qui 4, 5, 6 che abbiamo quelli cioffecchi poi lì di quel Pogba non lo so cosa faranno perché lì è un punto interrogativo molto 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 delicato non si sa ancora niente dei processi sono provato ad andare a spulciare non si sa niente non si sa niente so cosa dirvi ragazzi su questo perché veramente chi vivrà vedrà questo volevo dirvi un po' di gossip anche su questo gossip un po' di calciomercato un po' di tutto aspettando lunedì lunedì giochiamo con l'udinese addirittura visto nella community ragazzi che qualcuno ha messo anche il 2 dell'udinese qualcuno ha messo anche il 2 dell'udinese ovviamente tanti 1 perché l'uno però un 20% visto che hanno messo anche il 2 dell'udinese quindi per me hanno preso una battosta molto molto psicologica 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 ragazzi con quella storia di Empoli lì ha fatto di quelle cappelle quel becca morto che abbiamo guardate che quella partita lì ancora non mi va giù vabbè quella partita lì non mi va ancora giù non mi va ancora giù pensate dovrei essere incazzato perché abbiamo perso con l'Inter quella lì io sono ancora più incazzato per quella partita con l'Empoli pensate cosa vi dico porca di una puttana quando penso mi vengono su ancora i fumi secondo video facendo due video così per tenervi compagnia domani si parte veramente con i video a serie domani domani torna il campionato oggi c'è solo Salernitana Empoli e poi domani tornano i prescritti che giocano a Roma contro la Roma partita molto curiosa sono curioso di vedere questa Roma qua in salita con De Rossi che si gioca un Lukaku in casa con Di Bala contro quelli là che dicono che sono che li vedono un po' in difficoltà adesso e l'Inter come tenuta atletica sono un po' in calo non lo so non dico niente non dico niente noi dobbiamo vincere queste tre partite assolutamente Udinese Verona e Frosinone guarda che qui voglio nove punti Allegri perché se no guarda vengo sul canale e te ne tiro più che il porco ciao ragazzi pollicione 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 iscrizione al canale like campanile mi raccomando che questo che fate non costa niente non costa niente poi ci sotto ci sono chi vuole abbonarsi il canale chi vuole fare una donazione per supportare il canale e ben accetto di così una buona serata a tutti ci vediamo alla prossima ragazzi ciao raga